Associati olivicultori, ben ritrovati alla 49esima edizione del periodico 9 dicembre 2022. Si stanno completando le ultime raccolte delle olive, qualche frantoio è ancora adatto a molirle, è aperto quindi. Le piante sono in fase di pre-riposo vegetativo, le temperature notturne e diurne non hanno ancora raggiunto quei gradi centigradi tali da mettere a riposo le piante. I trattamenti fitosanitari pertanto si possono escludere perché non abbiamo più le condizioni affinché i parassiti, soprattutto quelli vegetali, i funghi si sviluppino. Però siamo ancora in tempo per andare ad attuarli, nel caso non si siano già eseguiti, quelli post raccolta, utilizzando ossicoli oruri di rame oppure la dudina. Avendo attenzione però che per la dudina di non utilizzare acqua eccessivamente fredda e poi di portarla sulle piante con temperature diurne che siano comprese fra gli 8 e i 10 gradi centigradi. Perché altrimenti questo prodotto con temperature inferiori andrebbe a diminuire la sua efficacia. Dopo dobbiamo tornare ancora negli oliveti, soprattutto gli oliveti che hanno una certa età dove potrebbe esserci la presenza nelle piante di una patologia importante che è la carie e vi è la necessità di andare a risanare tronchi e rami. Con l'aiuto della nostra lavagna andremo ora a vedere di che cosa si tratta, che malattia è e come si può curarla. La carie è chiamata anche lupa ed è una malattia causata da un consorzio funginio da più generi di funghi. Attacca le piante che hanno una certa età, che sono indebolite e che sono state oggetto di danni al legno. Danni causati da importanti tagli di potatura, da azioni meccaniche che potrebbero essere state da grandinate, da percossi di grandine pertanto, o anche da danni meccanici ai rami o al tronco dati da attrezzi agricoli. Certamente l'età influisce su questa azione dei funghi perché le piante naturalmente si indeboliscono e pertanto il legno o la pianta stessa ha minori possibilità di sviluppare all'interno del suo metabolismo secondario azioni di contrasto a questi patogeni. Sembra anche che prima di aggredire la pianta questi funghi xilofagi vengono identificati da un punto di vista scientifico abbiano la necessità che prima il legno sia colonizzato da altre specie batteriche che vanno a degradarmi parte della sostanza organica creando un humus di cultura funginia ideale affinché questo consorzio funginio penetri meglio, inserisca meglio le ife e vadano a colpirmi soprattutto la lignina e la cellulosa, due sostanze ben presenti nel legno e che servono a questi funghi per alimentarsi e per riprodursi. Possono colpire qualsiasi parte legnosa della pianta, il tronco, i rami ma anche la chioma. Nella chioma ce ne accorgiamo quando vediamo dei rami che possono seccarsi oppure le giovani foglie hanno minori dimensioni delle altre, segno che la linfa non gli arriva in modo corretto da alimentare un sviluppo normale sia della pianta stessa ma soprattutto delle foglie. nelle parti legnose invece possiamo trovare delle depressioni ma anche dei rigonfiamenti possiamo trovare anche delle crepe come questa e sotto noi possiamo verificare magari battendo il legno rilevare che ci sia un suono cupo e se noi apriamo la ferita riscontriamo un tessuto spugnoso, un tessuto che si sgretola facilmente, che si sbriciola, che può essere anche area di infezione o di infestazione da altri parassiti. Vi è perciò la necessità di curarli ma come? Andando ad asportare con una tecnica particolare la sviluppatura tutta questa parte di legno che chiamiamola così in un termine non proprio appropriato, avariato, in modo da toglierlo utilizzando sgorbie, utilizzando piccoli picconi, utilizzando attrezzi meccanici come potrebbero essere dei seghetti, in modo da togliere tutta quella parte aggredita e mettere a nudo la parte sana. Terminata questa operazione vi è la necessità di andare a disinfettare le parti trattate con ossicoloruri di rame miscelati a sostanze viniliche. Nel periodico vi abbiamo riportato tutte queste tecniche. È un'azione importante perché abbiamo valutato che in questi ultimi anni vi è un aumento della carie, data probabilmente da un minor utilizzo di prodotti fungicidi oppure di prodotti fungicidi con minor carica per diminuire la popolazione di parassiti fungini. Nel periodico abbiamo inserito anche delle note su come attuare una corretta etichettatura. In questa settimana abbiamo infatti avuto una notevole richiesta da parte di associati di indicazioni perché hanno l'olio nuovo, l'hanno appena imbutigliato e devono anche etichettarlo. Perciò abbiamo riportato tutte le regole con gli aggiornamenti. Leggetelo perché è interessante, ricordando che i nostri uffici sono sempre a disposizione. E adesso, nel ringraziarvi per l'ascolto, un buon risentirci alla settimana prossima. Campagna finanziata con il contributo dell'Unione Europea e dell'Italia.